ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video oggi inizia una nuova settimana dato che sappiamo che durante il weekend il calcio mercato è un po più dormiente possiamo invece aspettarci magari qualche succosa novità all'interno di questa settimana perché è vero che l'inizio ufficiale del calcio mercato è datato primo luglio e quindi manca ancora un mese dall'altra parte però è anche vero che la juventus dal mese prossimo dovrà iniziare un ritiro che la porterà a doversi preparare nel migliore dei modi per iniziare una stagione bizzarra con il mondiale di mezzo in cui prima del mondiale si giocheranno tante partite e soprattutto io ho questa paura questo timore quando prima del mondiale alcune partite con alcuni giocatori che saranno poi convocati nazionale potrebbero addirittura tirare indietro la gamba e allora se l'altro giorno abbiamo parlato dei giovani dei ragazzi della juventus già della juventus che potrebbero essere inserite all'interno della rosa della prima squadra per cercare di colmare almeno numericamente alcune lacune che si porta dietro al centrocampo della juve senza bisogno di andare a strappagare giocatori che hanno dei profili che poi non rendono effettivamente in campo oggi voglio focalizzarmi su quello che è il ruolo del regista davanti alla difesa perché tante volte noi ragioniamo cerchiamo di completare dei pacchetti e tutte le volte immaginiamo dei giocatori in tanti si stanno immaginando zaccaria davanti alla difesa che è stata l'idea che ho avuto per tutto il mese di gennaio quando appunto si trattava zaccaria anche perché osservando quello che era stato il suo passato al borussia mugen slabak e anche comunque nazionale zaccaria era solito giocare davanti alla difesa in quella posizione lì di giocatore che può recuperare tanti palloni e con una struttura fisica importante riesce a prenderle anche di testa eventualmente tra l'altro un giocatore che con i piedi non se la cava per niente male quindi zaccaria idealmente come perno basso del centrocampo ci sta e ci starebbe io credo però che il vertice basso del rombo o comunque del triangolo che si verrà a formare a centrocampo, il rombo dipende se giocheremo senza esterni quindi con un trequartista come potrebbe essere di Maria cosa che non mi sento di escludere, credo proprio che sarà il buon vecchio Manuel Locatelli che tante volte abbiamo visto in quella posizione e che secondo me Allegri andrà a riproporre. In tanti mi dicono sì ma Locatelli non è un regista e sono d'accordo questa è una cosa che dico da quando ancora lo stavamo trattando per acquistarlo dal sassuolo quando ancora non era il nostro calciatore ed è vero effettivamente Locatelli è più una mezzala un giocatore che comunque proiettato anche in avanti negli ultimi metri riesce ad aggiungere qualcosa in più ci sono tante delle partite emblematiche in quest'ultima annata nella quale ci ha dimostrato proprio questo Locatelli cioè che qualche metro più avanti quel qualcosa in più te lo riesce a creare perché ha più fantasia anche in fase di rifinitura mi viene in mente la rimonta che abbiamo fatto con la Roma a Roma in quel 3 a 4 clamoroso ed incredibile ecco quella rimonta è nata proprio perché Locatelli ha abbandonato la posizione di regia classica davanti alla difesa ed è stato libero di girovagare più avanti tra l'altro uno degli assist è proprio suo con un cross dalla destra e quindi Locatelli potrebbe benissimo fare il ruolo di mezzala anzi forse potrebbe fare meglio il ruolo di mezzala piuttosto che il ruolo di regista davanti alla difesa tra l'altro sia a destra che a sinistra io mi ricordo la partita probabilmente migliore giocata da Locatelli in carriera è quella doppietta in nazionale allo scorso europeo e proprio partiva da giocatore che faceva la mezzala di sinistra quindi Locatelli è un giocatore che può giocare in tutte e tre le posizioni del centrocampo e può giocare anche in una mediana 2 perché ribadisco io ve lo dirò sempre non mi sento neppure di escludere il fatto che la Juventus non giocherà 4-3-3 bensì 4-2-3-1 quindi con due giocatori davanti alla difesa più Pogba spostato un po' più decentrato sulla sinistra come spesso lo abbiamo visto fare dato che un giocatore che ama prendere palla da quella posizione lì mezzo sinistro esterno sinistro a centrarsi e far partire il tiro tra l'altro anche qua Pogba può fare benissimo la mezzala di destra e la mezzala di sinistra non serve secondo me effettivamente un giocatore che faccia il regista Locatelli però ti dà quella possibilità di iniziare l'azione da dietro e di schierarti a tre difensori centrali facendo scendere Locatelli aprendo i due centrali difensivi tante volte questa cosa viene vista come un vero e proprio disonore nei confronti di Locatelli perché arretra troppo e quindi poi il problema è che questa è una mossa offensiva perché ti permette allo stesso tempo di alzare i terzini e di aumentare la fase di spinta sugli esterni andando a formare la sorta di 3-4-3 quando attacchi è una soluzione che abbiamo visto fare tante volte a tanti allenatori che possa essere il terzino che si stringe e l'apertura di un'ala che possa essere il regista che arretra e l'alzamento degli esterni poco cambia l'importante avere sempre un uomo in più in fase d'attacco io credo che Allegri voglia un giocatore con delle caratteristiche simili a quelle di Locatelli in quella posizione lì da sempre ci ha abituato ad avere un giocatore lì con quelle caratteristiche ci aveva messo anche Arthur ci ha messo Miretti ci ha messo Locatelli in questa stagione sono stati loro tre a girarsi un po a eccezione fatta per il Milan dove era arrivato a giocare appunto con Van Bommel davanti alla difesa o lo stesso Nigel de Jong quindi giocatori diversi sostanzialmente in fase di costruzione e Allegri tra l'altro l'ha citato più volte quel Milan dei tre mediani che gli hanno permesso di vincere lo scudetto io credo che ogni squadra sia differente che quindi ogni formazione che possa avere a disposizione l'allenatore poi faccia di necessità virtù se penso un po a quelli che sono stati i suoi giocatori davanti alla difesa con la Juve Pirlo per forza di cose Marchisio quando non c'è stato Pirlo c'è stato Marchisio Pjanic e quest'anno Locatelli quindi giocatori tutti eleganti e comunque con un bel calcio una bella visione di gioco giocatori in grado anche di andare in verticale e vabbè abbiamo detto prima Artur e Miretti però Locatelli è stato quello che ci ha giocato di più quest'anno in quella posizione aggiungo per dovere di cronaca Padoin contro l'Udinese in quella sconfitta lo Juventus Stadium col gol di Siriltero ma queste sono parentesi che voglio lasciare chiuse tanto quanto quelle in cui giocavamo con Hernanes davanti alla difesa anche se in realtà Hernanes ha fatto pure delle partite dignitose in quella posizione quindi secondo me quando si parla di centrocampo della Juve bisogna sempre mantenere questa cosa qui poi come vi dicevo l'altro giorno secondo me ad oggi numericamente a centrocampo siamo anche troppi quindi immaginarmi la Juve che va a fare una trattativa per un giocatore in quella posizione ad oggi sinceramente non me l'aspetto poi vediamo sono curioso di ricredermi perché secondo me alla fine saranno sei centrocampisti dico almeno uno o due giovani quindi Miretti e un altro o il solo Miretti non ho ancora idea di quello che sarà qua vediamo un attimo che cosa succede tra l'altro l'altro giorno avevo contato 11 centrocampisti in realtà sono 12 perché a quanto pare il Torino non riscatterà Ronaldo Mandragora che quindi sarà un giocatore che l'avimento dovrà cercare di piazzare in un modo o nell'altro sul mercato e qualora non dovesse riuscirci è un altro di quelli che rimarrebbe sul gruppone aggregato in prima squadra concludo dicendo che sarei almeno felice di almeno un annuncio questa settimana lato Pogba o Di Maria perché questo continuo andare avanti con le trattative proprio non mi convince non mi fa stare tranquillo questo è un discorso che magari cercheremo di approfondire più avanti in un altro video per non diventare pesanti per non cercare di appesantire questo però ve lo dico inizio un pochino essere preoccupato è un pochino di preoccupazione dato che tutto fatto qui e là su e giù cioè io quest'anno l'ho già sentita troppe volte troppo fatto e una volta è stata per Rudiger una volta è stata per Perisic Rudiger ha firmato col Madrid Perisic oggi fa le visite mediche col Tottenham l'ho già sentito per Pogba e Di Maria pure qua gli annunci ufficiali di Pogba e Di Maria non ci sono e non vorrei mai la sorpresina di Pogba che guarda caso va al PSG proprio per sostituire magari Di Maria e affiancare Mbappé e Di Maria che non so va da qualsiasi altra parte del mondo quindi capisco che il mercato non sia ancora incominciato dall'altra parte un pochino di preoccupazione ce l'ho fatemi sapere che cosa ne pensate discorso centrocampo e soprattutto fatemi sapere se questa preoccupazione è condivisa oppure no